La Fondazione Pescara Abruzzo celebra i 30 anni dalla sua Costituzione con una serie di eventi e di iniziative presentate questa mattina dal Presidente Nicola Mattoscio. Alla conferenza stampa hanno preso parte fra gli altri il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il Presidente della provincia di Pescara e Sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e il Presidente del Tribunale Angelo Bozza. Voglio sottolineare che è un soggetto nato dal nulla, sia dal punto di vista delle risorse sulle quali poteva contare, sia come mestiere da inventare e da rendere disponibile per la comunità di riferimento. E con la legge Ciampi che si sono create le condizioni giuridiche per adottare questa sfida e realizzarla, oggi è sotto gli occhi di tutti che la Fondazione è protagonista a tutti gli effetti, dispiace dire qualche volta anche più di tante altre istituzioni che avrebbero il dovere di fare anche più di noi. E questo si vede nell'ambito della cultura, ma si vede nell'ambito della promozione e della formazione, soprattutto quella accademica specializzata ed avanguardia di rilievo internazionale. Voglio ricordare che abbiamo promosso l'ISIA, l'unico istituto accademico pubblico del centro-sud d'Italia. E poi questa attività editoriale straordinaria di tanti anni che documenta il bacino della ricchezza culturale, dei beni culturali, della nostra comunità di riferimento e che costituisce ormai persino un archivio per le future generazioni. E soprattutto il Pescara Cityplex, l'unica esperienza in Italia e al mondo di una multiplex nell'area urbana a carattere pubblico. E poi i musei, l'Imago Museum recentemente inaugurato dal Presidente della Repubblica. Presente anche il sindaco di Loreto, Aprutino Gabriele Starinieri, che ha ricordato come tutto nacque nel piccolo centro Vestino, quando era ancora provincia di Teramo. La fondazione celebri di 30 anni, l'istituto bancario da dove poi tutto è derivato, è nato a Loreto nel 1871 dal Monte Frumentario. Persone illuminate crearono questa banca affinché assistessero i coltivatori e quindi l'impresa che già a fine ottocento nasceva. Poi ricordo che questa banca fu utile per la costituzione della provincia nel 1927 e quindi era l'unica banca presente sul territorio. Allora Loreto era in provincia di Teramo. Grazie. Grazie.